Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si è regolarizzato sulla rete autostradale regionale. In FIPI li restano coi attratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandici verso Firenze. Per lavori, rallentamenti in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli, in careggiato opposta tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Per le stradali sulla stradale 63 del Valico del Cerreto, rallentamenti per nebbia tra Fivizzano e Valico del Cerreto. Raccomandiamo la massima prudenza alla guida. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. L'Aurostar Frecciarossa 9410, Salerno Venezia Santa Lucia, sta viaggiando con 56 minuti di ritardo. L'arrivo a Firenze Santa Merenovella al momento previsto alle 11.18, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Per ora è tutto, buon viaggio.